Intendo conseguire il mio primo titolo professionale perché dopo aver già tentato un'esperienza universitaria insoddisfacente avevo bisogno di un tipo di formazione che mi desse contemporaneamente una preparazione pratica e teorica. Ho scelto questa professione perché la possibilità di rallegrare o semplicemente di facilitare la giornata anche a solo una delle persone che accudisco mi rende felice. Il primo ostacolo che incontra un adulto è sicuramente quello economico in quanto con lo stipendio da apprendista è difficile restare totalmente autonomi. Un altro ostacolo è la differenza di età tra gli alunni della scuola professionale. Alcuni nella mia classe hanno fino a 10 anni meno di me e questo divario diventa difficile da colmare a volte. In questo percorso mi assistono sicuramente in primis la mia famiglia e i miei amici ma un ruolo fondamentale lo hanno anche le persone con le quali lavoro e chi accudisco. Quando sono sul posto di lavoro mi sento come a casa e so che c'è sempre qualcuno su cui posso contare che ha le risposte a tutte le mie domande. Dal titolo professionale mi aspetto la possibilità di accedere al mondo del lavorativo con la giusta preparazione in campo teorico e pratico e magari in futuro la possibilità di accedere a una scuola superiore specializzata.